Yo, benvenuti in questo nuovo video. Minecraft ai tempi di Notch, quindi si parla del 2011 circa, non sapeva ancora bene che strada prendere né cosa mettere di preciso dentro il loro gioco. Fecero un sacco di aggiornamenti che poi nel tempo decisero di rimuovere. In questo video ne vedremo 15, mi raccomando lasciate like se vi piace il video e iscrivete se siete nuovi, ma iniziamo col primo. All'inizio, durante la creazione di Minecraft, Notch aggiunse dentro l'inventario delle scritte, delle scritte con scritto attacco, speed, difesa e tante altre varie statistiche. Molto identico, molto simile a tutti gli altri giochi che uscirono durante quel periodo, come per esempio World of Warcraft o altri giochi dove appunto c'era un inventario e il personaggio principale aveva delle statistiche che potevano venire migliorate. Però su Minecraft non funzionava questa cosa, tu potevi utilizzare un'arma migliore o un'armatura migliore, ma non venivano potenziate le tue statistiche e Notch poco dopo proprio dalla creazione di Minecraft rimosse direttamente questa cosa, forse era una bozza e decise poi di levarla direttamente. All'inizio il mondo di Minecraft non era illimitato e per questo motivo, e per questo motivo decisero, siccome non c'era la possibilità di avere un mondo infinito, di migliorarlo facendo tante piccole modifiche a questa sorta di mappa limitata che potevi avere. Per esempio potevi decidere i temi di come doveva essere la tua isola, di come doveva essere la tua mappa e i più particolari che ci sono tra questi temi, che erano quattro, è che puoi per esempio avere come tema quello lì Paradiso, dove è perennemente giorno e puoi farmare le cose molto più facilmente, o questo tema che si può definire come Antenato Preistorico del Nether, ovvero il tema dell'Inferno, dove è tutto intorno a te e lava ed è molto creepy come mondo in sé. Un'altra modifica che aggiunsero è quella lì del tipo di mappa che dovevi avere oltre al tema e quindi se doveva essere fluttuante, che abbiamo visto già in un altro video, se doveva essere invece con tanti alberi, se doveva essere super piatto, che anche questo è l'antenato poi della versione effettiva con i mondi infiniti, e c'era un'altra opzione molto molto carina, che siccome il mondo era in una zona limitata, suppongo per questioni di memoria del gioco, potevi decidere però che forma doveva avere, potevi migliorare la lunghezza, farlo quindi lungo e stretto, potevi farlo profondo ma più piccolo, potevi cambiare tutte queste piccole modifiche. Questo ti permetteva di poter creare, diciamo, dei mondi molto originali, nonostante lo spazio fosse davvero poco, e potevano uscire fuori dei mondi spettacolari, combinando la profondità e la lunghezza che dava ad un mondo. Oh, questo aggiornamento che sto per dirvi, ditemi se non sarebbe fighissimo da avere ancora su Minecraft. Su Minecraft esiste lo screenshot. Bene, in passato esisteva lo screenshot isometrico, che ti permetteva di poter scrinnare da lontano una porzione di mondo, e ti creava una sorta di mappa molto particolare, bellissima. Lo rimossero perché dava problemi con i chunk. Quando il mondo divenne infinito, tu non potevi scrinnare tutto il mondo, e quindi veniva un po' tagliato male, un po' buggato, decisero di rimuoverlo direttamente. Ci sono ancora delle mod che ti permettono di poter creare questi screen isometrici, ma sarebbe molto figo se invece esistesse proprio su Minecraft di base. Fatemelo sapere nei commenti. All'inizio, su Minecraft, diciamo che l'arco non serviva molto. Questo è perché potevi sparare le frecce, semplicemente premendo Tab, e non avevi un cooldown, non avevi limiti, le potevi spammare all'infinito, eri letteralmente una mitragliatrice che camminava in giro. E quindi te potevi vedere sulla tua hotbar quante frecce avevi, e spammando il tasto Tab potevi sparare a raffica le frecce. Ovviamente è stato rimosso perché eri troppo forte con una cosa del genere. In passato i creeper, che già di per sé nacquero per un errore, avevano un'altra particolarità. Non soltanto potevano esplodere durante il combattimento, ma esplodevano anche alla loro morte. Quindi te, una volta che avevi visto un creeper, era la tua fine. Perché anche se tu lo avresti ucciso, ti avrebbe fatto esplodere la base. Diciamo che non è proprio molto molto p come cosa, questa qui del creeper da ricevere. Infatti l'hanno rimossa perché era proprio odiato. Non è che dava fastidio, proprio ti permetteva di non giocare. Immagina che ti trovi un creeper nella tua base. Oh, ok, l'ho ucciso, meno male, poteva farmi esplodere tutto. E poi esplodeva lo stesso, cioè, eri destinato a scappare, dovevi andartene, basta. In passato, prima dell'esistenza del bioma innevato, dove appunto nevica perennemente e c'è tutto a tema neve, esisteva una probabilità dove tu potevi generare un mondo con la winter mod. Quindi andando a generare un mondo casuale, ti generava appunto questo mondo winter, con tutto, tutto il mondo innevato, con la neve perenne, e quindi giocavi un mondo particolare, diverso da quelli lì che giocavi normalmente. L'hanno rimosso con l'aggiunta del bioma. In passato su Minecraft, potevi trovare dei mob, versione umana, in giro, che potessero essere altri Steve, con dei movimenti molto discutibili, ma davvero molto discutibili, e altri mob che ricordano molto le versioni umane e non hanno però, diciamo, delle caratteristiche specifiche, anzi, in realtà non fanno proprio nulla, non fanno niente di che questi mob. E li hanno rimossi poi nel tempo, non si sa bene cosa volessero farci con questi mob. Ah, ma ti sei iscritto comunque al canale, mi raccomando, fallo, è importante. In passato, durante la generazione del mondo, potevi trovare delle strutture, che hanno deciso poi successivamente di rimuovere. Queste strutture erano, per esempio, delle mega piramidi, fatte tutte quante in brick, oppure, per esempio, dei muri di ossidiana casuali, che trovavi in giro, oppure, un piccolo easter egg, che secondo me sarebbe stato carino, da avere ancora su Minecraft, ovvero, la casa del developer, perché nelle prime versioni, fecero una modifica nel mondo di Minecraft, dove appena spawnavi, c'era questa casa, con dentro delle ceste, con tutto ciò che serviva ai developer da testare, in modo tale che non dovessero ogni volta darsi le cose, eccetera, eccetera, gli andava a velocizzare il lavoro. Secondo me, se fosse rimasto un riferimento dentro Minecraft a questa cosa, sarebbe stato molto carino. Siamo abituati che su Minecraft ci sono dei comandi particolari, per esempio, per spawnare oggetti, per andare in determinati biomi, per givarsi cose, esistono un sacco di comandi diversi. Dovete sapere che però, nelle vecchie versioni, esistevano dei comandi, proprio sulle F della tastiera, come per esempio, per farsi lo screenshot, che però andavano a modificare il mondo. Per esempio, potevi spammare l'esistenza dei portali, premendo F4, tu premevi F4, e ti spawnava un portale addosso, oppure, per esempio, potevi attivare e disattivare, la pioggia nel mondo, invece del comando che esiste ora. E nulla signori, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vorreste ancora qualcosa di queste cose su Minecraft, mi raccomando, lasciate un bel like al video, ci si becca domani alle 14 con un nuovo video, bella. Grazie a tutti.